Dopo il caso di virus dengue riscontrato nelle ultime ore nel comune di Civitella e in Valdichiana, nella frazione di Cigiano, la ASLA ha disposto una disinfestazione anche nel perimetro dell'ospedale San Donato di Arezzo. Qui, in pediatria e in isolamento, è ricoverato il bambino, che è stato colpito dal virus al rientro da un viaggio a Cuba. Il virus che causa la cosiddetta febbre dengue si trasmette attraverso la puntura della zanzara tigre, per questo è importante la disinfestazione a scopo precauzionale. Firmata oggi l'ordinanza urgente con la quale si dispone l'esecuzione di interventi di disinfestazione nella zona dell'ospedale San Donato, si legge nella nota stampa a seguito dell'emergenza dovuta al virus dengue. Secondo l'ordinanza, nelle aree pubbliche, caditoie, stradali e pozzetti, aree private e aree verdi di pertinenza delle abitazioni presenti nell'arco di 200 metri dall'ospedale San Donato, gli operatori procederanno alla disinfestazione con insetticidi tramite interventi sia adulticidi che larvicidi e con la ricerca e l'eliminazione dei focolai larvali. La disinfestazione sarà dalle 23 del 12 agosto alle 7 del 13 agosto.